Ciao ragazzi, oggi siamo al nicchio. Come state? Bene? Lo so che state bene. Allora, oggi siamo al nicchio come vi farò vedere ora. E praticamente noi, se guardate, siamo al nicchio perché c'è praticamente un muro di sasso, potrebbe essere da tutte le parti, ma al nicchio c'è praticamente questo sasso particolare che è molto bello. Allora, oggi vi farò vedere dove siamo. Allora, questa è tutta la cartina, è gigante, tutta la cartina di Lucca, ma noi in particolare siamo qui perché c'è la lucina e vuol dire che siamo al nicchio. Quindi, più che altro, vi farò vedere anche la cartina prossimamente. Prossimamente vi farò vedere anche la cartina con una foto e vi farò vedere tutto quello che mangeremo. E vi farò vedere quello che mangerò io, quello che mangerà mio babbo, quello che mangerà mia mamma. Lei ha già lo spritz qui e io ha già la Coca-Cola con mio babbo. Daniele, saluta! Buonasera! E allora, oggi guarderemo il nicchio. Quante cose buone ha da poter mangiare, da mangiare, ha pure le cose vegane, ha un po' di cose, molti piatti, insalate, dei taglieri, ha molte cose. I primi piatti, tutto? Sì, i primi piatti, le birre, la pizza, le focaccine, le pizze, le insalate, dei taglieri, delle bibite, ha i vini, birre in bottiglia. E anche lo spritz, non c'è scritto sulla cartina. E c'è anche... Ma lo potete ordinare! Fonte viva! E anche la Coca-Cola. E quindi, qui sulla cartina non lo vedete, ma lo potete ordinare, ok? E iscrivetevi a questo video e iscrivetevi al mio canale YouTube Dolcimente Viola. E quindi oggi vi farò vedere tutte queste cose del nicchio per poter sapere che anche i vegani possono venire a mangiare qui. Quindi possono venire i vegani, poi possono venire persone che anche... Sono celiache, perché ci sono anche delle pizze celiache, che praticamente potrete assaggiare. Sono buone, eh? E poi praticamente, sì, anche qui c'è scritto. E ci sono cose molto buone. E dovete sapere che... Allora, dovete sapere che se non vi trovate tanto bene a Luca, che magari volete andare da qualche parte, chiedete. Non chiedete, perché tanto c'è la cartina qui. Se venite a mangiare al nicchio, e c'è la cartina qui, e quindi dove c'è il puntino, che c'è quel puntino che vi ho fatto vedere luminoso, vuol dire che lì c'è il nicchio. Quindi potrete sapere che lì, nel puntino luminoso, voi siete dentro il nicchio, che siete al nicchio. Quindi potete venire qui per sentire dei piatti buoni dalla margherita alla carta. Ciao! Buona questa focaccina al nicchio. Questo è un piatto speciale. Perché ha cose buone che non fanno male. E con focaccina, che è sicuramente quello che vi indietro, ve la riscaldano, se vedete. E poi potete ordinare lo spizzolo. Mmm! E alla fine mangiate! Ciao! Io vi faccio la cartina di mozza. Vedere l'acqua. Vedere l'acqua. Allora, qui è lì. Noi siamo partiti dal numero 44. Abbiamo fatto questa metà via tutto il listo. E siamo andati all'interno. Poi... Sì. In piazza Ampibrazo ho cominciato a staccarmi. E ho cominciato a camminare da sola. Poi ho fatto... E poi ho fatto... Tutta... Cioè, perché no? Ho fatto tutta una mia la sera. In servizia. E lì ho cominciato a staccarmi. Poi vi ho visto prima ci dovete andare. Prima ti mostro i corsi. Da dove siamo partiti? Per venire l'amico. Quando ne siamo proprio ora. Siamo partiti dal numero 44 della mattina. E poi siamo andati a punto e a punto. E siamo arrivati... Fino qua. All'inizio. Qui vedrà. Prescamente. E' con tè l'unica. Che sono state fatte apposta. Per difendersi dai miei miei. Quindi tutti i corsi sono la mia. Tutti i corsi sono la mia. Tutta questa è la mia. Vediamoci. E' un altro. C'è un altro abbandonato. E' un lato. Tutti i corsi sono le fudere. Tutti i corsi sono le fudere. E' un altro abbandonato. Allora io prima ci sono passata. Per andare al vecchio. Ci sono passata. Come si è un bel. E poi sono andata nel grado. E' un abbandonato. Dopo andiamo con il show, questa è la mia bicicletta o per quattro o per tre, ma noi prendiamo quella per tre perché ci sono io, il babbo e la mia mamma, tutti insieme e prendiamo con il show e praticamente faremo in giro tutte le pucure e sono benissime. Poi voglio venire a mangiare quel nicchio, che c'è la capa, la margherita, poi tutti gli altri fanno delle cose buonissime nel nicchio, ci sono degli antipasti, i primi antipasti, il primo, il secondo, poi ci sono gli antipasti, poi fanno le cose per celiaci e il dolce, poi fanno le creme pasticcere, colatella, lo spritz, non c'è scritto però lo potete ordinare, l'acqua, la coca cola e poi ci sono cose per vegani, vegetariani, ci sono tante cose e anche per celiaci. Venite al nicchio e venite al lucca, ciao e seguitemi su Dolcemente Piota e mettete un like in su a questo video e iscrivetevi al mio canale Dolcemente Viola, ciao! Ciao! Ho iniziato a camminare qui, in questa piazza. Ciao Luca! Ciao Luca! Ce la fai? Lo sto facendo! Sono stati fatti gli spettacoli più belli in assoluto. Vediamo qui! E qui siamo sempre a lucca! Ammiratelo! Guardate com'è bello! Bello! Ciao! 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 Grazie a tutti.